La sfida a distanza per la vetta della classifica tra Como e Gozzano si giocherà in contemporanea. Il Como sarà in campo a Casale Monferrato domenica 11 marzo. Le due società si sono accordate per lo spostamento della gara, una facoltà concessa dalla Lega di Serie D per la concomitanza con le elezioni del 4 marzo, giorno in cui doveva andare in scena la sfida fra Nero Stellati e Lariani. Lo stesso giorno il Gozzano gioca contro l'Olginatese. Verrà dunque spostata la gara di Coppa Italia con il Crema, inizialmente prevista per il giorno 10. Intanto nella giornata di ieri la società Como 1907 ha fatto sapere ai propri sostenitori che ha aperta la prevendita proprio per i biglietti del settore ospiti per la partita Casale-Como. La prevendita, come da disposizione della questura di Alessandria, terminerà sabato 10 marzo alle 12.30 e prevederà il tagliando nominativo. Si ricorda inoltre che nel giorno della partita le biglietterie relative al settore ospiti rimarranno chiuse. I biglietti disponibili sono 300, acquistabili al prezzo di 10 euro, alla segreteria dello stadio Sinigaglia dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.00. I biglietti di tribuna saranno vendibili solo ed esclusivamente alla biglietteria dello stadio Natal Palli di Casale nella giornata del match. Il maltempo intanto cancella il calcio per questo fine settimana. La Federcalcio Comasca ha sospeso per neve tutte le gare previste per sabato 3 e domenica 4 marzo. Troppi i campi ghiacciati e completamente innevati, con rischi oggettivi per la salute degli atleti.